Il generale Crescenzo Sharaffa qui alla LUC di Castellanza per l'inaugurazione dell'anno accademico. Grazie generale di aver accorto il nostro invito. Generale, una battuta. Il legame che c'è tra la LUC e anche tutti gli aspetti tecnici, ma senza entrare nel merito, in qualche modo finanziari, relazione anche a questi nuovi sviluppi, anche il piano del PNRR. La collaborazione tra Guardia di Finanza e Mondo dell'Impresa è legata alla sicurezza economico-finanziaria che la Guardia di Finanza assicura a chi produce valore, a chi fabbrica valore e quindi sostiene l'impegno dell'imprenditore finalizzato alla redistribuzione di un reddito. Naturalmente il contrasto è contro chi intende distruggere valore, marginalizzando ed evadendo l'evasione fiscale. In tema di PNRR la Guardia di Finanza è impegnata attraverso i controlli alla spesa pubblica, corretta allocazione delle risorse e proprio su questo argomento con la provincia di Varese e con il comune di Varese sono stati stipulati rispettivamente dei protocolli di intesa finalizzati allo scambio di informazioni e dati che provengono da questi due enti locali alla Guardia di Finanza. Noi li elaboriamo e restituiamo il rischio economico-finanziario dei soggetti che intendono eseguire i lavori pubblici. Perfetto, completo, grazie e che in qualche modo è un aspetto della sostenibilità. La ringraziamo generale, grazie di aver accettato il nostro invito. Ringrazio per la possibilità e l'opportunità di esprimere il lavoro della Guardia di Finanza. Grazie